Un accordo concepito al fine di affrontare al meglio la difficile situazione congiunturale di riconversione dalla raffineria Eni di Gela e di tutte quelle aree di crisi che sono state definite in Italia per governare con più efficacia i processi di transizione industriale. Soddisfazione è stata manifestata dalle segreterie confederali di Cigel e Cigel e Will per l'intesa raggiunta tra le segreterie nazionali e Confindustria in riferimento al delicato tema delle aree di crisi dove entra a pieno titolo l'area industriale di Gela. I recenti interventi legislativi di riforma degli ammortizzatori sociali hanno sensibilmente ridotto lo spazio di azione degli stessi ammortizzatori lasciando senza nessun reddito i lavoratori dell'indotto di Gela. Il documento propone un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali che mette al centro la ricollocazione dei lavoratori assegnando alle parti sociali attraverso la contrattazione un ruolo attivo e di grande responsabilità. In particolare sono state individuate specifiche soluzioni da adottare in due differenti contesti. Nelle imprese interessate dalla cassa integrazione, laddove siano previsti esuberi, si propone attraverso un accordo sindacale la condivisione di un piano operativo di ricollocazione finalizzato a favorire la formazione e la ricollocazione dei lavoratori. Già durante il periodo di cassa integrazione e per le attività di formazione, le parti hanno previsto la possibilità di operare attraverso fondi interprofessionali nelle imprese che operano in area di crisi industriale complessa e non complessa, laddove vi siano concrete possibilità di rilancio delle attività produttive, si propongono anche alcuni correttivi alla disciplina degli ammortizzatori sociali. Ignazio Giudice, CGL, Emanuele Gallo, CISL e Maurizio Castania-Uil confidano nella condivisione di queste proposte da parte del Governo nazionale e ne auspicano la piena attuazione, forti dalla convinzione che, nell'attuale contesto produttivo ed economico del territorio di Gela, siano utili per dare risposte adeguate a imprese e lavoratori. Grazie a tutti.